Volevo fare delle domande al signor Longo. La prima era se si era ispirato ad una storia già vissuta da qualcuno o da lei in persona. Inoltre volevo chiederle se le descrizioni fanno pensare che questo libro si possa essere ispirato ad una storia che è realmente accaduta e poi in particolare nel capitolo 14 ci sono una serie di riflessioni che fa il personaggio e denuncia degli aspetti ad esempio riguardo la televisione che viene paragonata la droga se non peggio e poi alla fine volevo una curiosità personale della madre dell'autore che lascia un po' in sospeso la sua uscita di scena. Non ho capito, al proposito del capitolo 14 qual era la domanda però circa il capitolo 14? Lei fa fare delle riflessioni al protagonista riguardo alcune problematiche e le fa esprimere ad esempio il fatto che la televisione, quindi volevo sapere se lei fa anche una denuncia nei confronti della società e in particolare della televisione. Esiste un fatto di cronaca realmente accaduto una quindicina di anni fa al quale mi sono ispirato soprattutto per il plot tecnico quindi c'è una storia che mi ha particolarmente colpito all'inizio di questa cosa ma spesso capita che delle storie della realtà colpiscano gli scrittori e poi questa materia va cercata di rendere universale, di portarla ad altre cose. Sì, secondo me, praticamente circa la televisione, penso che oggi la televisione rischia di essere una forma di droga perché c'è un livello abbastanza superficiale delle trasmissioni che vengono trasmesse in televisione e basta vedere i tantissimi salotti letterari dove si incontrano persone e parlano, vengono trasmesse informazioni ma rimane sempre la conversazione abbastanza a livello superficiale cioè c'è una tendenza a semplificare troppo la realtà e le cose quindi questo impedisce un approfondimento e impedisce alle persone di andare al profondo delle cose di se stessi o delle altre situazioni. Questo è il problema principale, secondo me, della televisione e secondo me è anche un po' voluto, cioè si cerca di abbassare il livello delle trasmissioni televisive in generale proprio per non permettere alle persone appunto di farsi troppe domande. La terza, la madre, la madre sì, esce di scena l'ho voluta lasciare un po' così, nel senso è una sua decisione, la mamma così assillante, così presente, così che sempre si è dedicata per tutta la vita a qualcuno a un certo punto decide di ritagliarsi un pezzettino anche per se stessa quindi decide di andarsene, come dire, in vacanza è molto turbata essa stessa da questa scelta ma sono tutti personaggi che cambiano, che fanno delle scelte e lei tra l'altro pensa anche che questo poi possa aiutare a sua volta il figlio a crescere quindi è un pensiero di questo tipo che la mamma fa è bello che anche a me rimangono dei misteri quando i personaggi fanno delle decisioni, cioè fanno delle scelte non tutto è deciso a tavolino per me è stata anche una sorpresa questa madre che all'improvviso decideva di andarsene a volte i personaggi sono talmente approfonditi a talmente prendere anche una strada loro da scegliere e decidere anche autonomamente cosa fare questo è anche interessante perché sorprende chi scrive se prendete il capitolo 14 in realtà c'è una cosa che il protagonista salva della televisione e che sono i cartoni animati di Will Coyote e Bip Bip e fa una riflessione che insomma mette un po' in luce chi è questo personaggio perché intanto come Will Coyote questo è un personaggio che la vita se la fatica non l'ha avuta facile nella vita ha dovuto rabbattarsi e lui come dire solidarizza con Will Coyote perché è uno che non si arrende mai e lui piano piano comincia a essere un po' come Will Coyote nel senso che vorrà andare fino in fondo a questa storia e non arrendersi alla verità che sembra emergere posso leggere 12 righe? così anche per avere un po' della lingua a proposito di queste del Coyote mio nonno la schifava la televisione se l'era comprata all'inizio per la curiosità ma dopo l'aveva ficcata in cantina e fino a quando è morto l'hai rimasta diceva che era peggio della droga che qualunque cosa ti raccontano tu te la mocchi senza protestare ogni volta ti credi che stai capendo chissà quale fatto speciale e invece quella ti mangi il cervello e manco te ne accorgi un po' che esagerava il nonno in tutti i casi pur io non è che ci vada tanta pressa e preferisco la radio solo qualche volta se capita mi vedi i cartoni animati quello che mi piace è Willy il Coyote lui e l'altro BB che ogni volta una maniera o l'altra se ne scappa che mica è sceme il Coyote oh si inventa certe cose che solo un ingegnere è capace e poi mi piace che lui insiste e non si arrende mai però non ci sta niente da fare lo stesso non lo acchiappa una volta a sole c'è riuscita l'aveva pigliata e messa dentro a un pentolone per bollirlo si era pure apparecchiata alla tavola e sistemato il tovagliolo intorno al collo ma sono arrivati la moglie e il figlio di BB a piangere e a pregare il Coyote allora si è commossa e l'ha lasciato libero e mo ti capita un'altra occasione così grazie a volte le parole scritte sono meglio delle spiegazioni durante la stesura del libro andrei lungo non era preoccupato che l'utilizzo dell'italiano popolare potesse influenzare sulla vendita del libro? guarda per fortuna quando scrivo non me ne può fregare di meno se il libro viene venduto tra l'altro credo che se tu puoi pensare di scrivere un capolavoro per venderlo non ci riesci se scrivi una cosa magari perché la senti perché è vera c'era un mio professore di sceneggiatura tanti anni fa quando più o meno avevo l'età vostra e lui diceva se voi fate una cosa se voi scrivete una cosa e non ci credete voi stessi come possono credere gli altri a quello che avete scritto? a me questa frase mi è rimasta qui quindi se scrivi una cosa se non sorprende me se non ci credo io come potrà sorprendere per far credere un'altra persona per me questa è una specie di legge e per fortuna non mi devo sforzare di starla a rispettare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti